Marco Ligabue sarà bellissimo 2.020 Emiliano Doc La musica è nel DNA di famiglia Chitarrista, autore, cantante, fratello minore della Rockstar Dopo la favolosa tournée dello scorso anno con 50 concerti e due edizioni di All Together Now su Canale 5 Marco Ligabue! Tu hai un compito da assolvere ancora, il muro ti aspetta per essere giudice Torna con un live ancora più chiarico e ancora più esaltante Oltre alle sue canzoni e alcune hit del fratello Luciano propone i successi dei cantatori italiani Battisti, De Gregori, Nomadi, De Andrè, Rino Gaetano e molti altri La sua musica, la sua terra da raccontare è uno spettacolo sempre acceso Marco Ligabue, un grande artista, un grande concerto Sarà bellissimo tour 2.020 dal 15 aprile nelle piazze italiane